LUKE 4316 Pochi giorni fa ho fatto lo speciale 50 iscritti, per cui ho pensato, per arrivare a 50 iscritti ci ho messo più o meno 3 settimane, 2 settimane e mezzo, arrivare a 100 ce ne metterò altre tante o magari un po' di meno, comunque non pensavo di arrivare a 100 iscritti dopo 2-3 giorni, dopo pochi giorni, per cui non ho avuto modo di prepararlo, volevo fare una cosa un po' più bella ma non ce l'ho fatta ragazzi, sono sincero, scusatemi, apprezzate quello che ho fatto adesso velocemente, ma tanto alla fine è un mini video, giusto uno speciale per ringraziarvi, perché siete tanti adesso, siete in 100 e che dire, ragazzi, visto che il video non mi è venuto tanto bene, l'ho fatto veloce e non ho avuto tempo, ripeto, vi metterò in descrizione il download della mia mappa in hardcore, per cui così come adesso, sappiate che nella villa nuova ho messo una chest, dove dentro ho messo tutto il mio equipaggiamento, ossia quello che avevo addosso, per cui sono vuoto, ho lasciato tutto a voi, buon divertimento, ripeto quello che ho detto nel speciale dei 50 iscritti, se riuscite a mandarmi dei video di risposta con le nuove costruzioni che farete nella mia mappa, sono contento, un'altra cosa, ragazzi, volevo chiedervi una cortesia, in questo video, allora, se vi piacciono veramente i miei video, per cui tutto il canale, mettete un mi piace a questo video, non giusto per questo video, il mi piace, ma solo se vi piace veramente il mio canale, è una prova che vorrei fare per vedere quanti mi piace ci saranno in questo video, per cui vorrei dire che quei mi piaci saranno per il mio canale, almeno più saranno i mi piaci e più avrò modo e voglia di andare avanti, continuare quello che sto facendo, anche se mi avete già dimostrato in tanti che vi piacciono veramente i miei video, visto che mi seguite veramente tanto e mi state dietro tutti i video, ringrazio tutti, ragazzi, tutti quanti, dal primo al centesimo e anche quelli nuovi che si aggiungeranno, spero che lo faranno, per cui continuiamo a crescere, ragazzi, perché più crescerai il canale, più crescerò io insieme a voi, ricordo i primi video dove ero veramente impacciato, non riuscivo ne a parlare e ne avevo confidenza nel fare il video e parlare da solo, diciamo, davanti a un monitor, e invece mi sono accorto che andando avanti mi sono sciolto sempre di più e questo è grazie a voi, ragazzi, per cui non ringraziate me, ma tutto questo è grazie a voi e lo ripeto, per cui apprezzate, l'ho già detto e lo ripeto, quello che ho fatto e continuate a seguirmi, per cui, per tutti i miei iscritti, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.